Questa nuova sessione tecnica relativa all'approfondimento sulle distinte. Di quali distinte sto parlando? Vi ho anticipato già ieri gli argomenti. La distinta materiali, quindi le varie tipologie che possiamo realizzare, le opzioni di ordinamento delle voci nella distinta, le opzioni che troviamo all'interno delle configurazioni di parte e di assieme e come queste voci, se le andiamo ad impostare in maniera differente, si vanno a ripercuotere nella distinta. Le bollature incomplete e perché otteniamo a volte bollature incomplete? Io ricordo ancora ai miei tempi le imprecazioni perché non mi rendevo conto, soprattutto su assiemi con centinaia di componenti o quantomeno anche 50 componenti, andavo a realizzare il disegno, certo del fatto che avrebbe tirato fuori tutte le bollature associate alla distinta e poi mi chiamava il cliente o chi stava assemblando la macchina e mi diceva scusa qual è la posizione 20 che non la sto trovando. In effetti molto spesso mi creava bollature incomplete. Dividere la distinta in più fogli e come aggiungere delle nuove proprietà, ma anche nuove proprietà guidate da equazione.